A Budapest la Salis tornerà in aula, ci sono delle speranze, delle aspettative che potreste vedere già da domani ai domiciliari? La speranza è quella che venga accolta la richiesta di arresti domiciliari, la famiglia ha trovato l'appartamento che era necessario per poter chiedere questa misura, è stata chiesta e domani il giudice si dovrebbe pronunciare e poi si entrerà anche un po' di più nei dettagli del processo perché domani dovrebbe esserci uno delle persone che ha denunciato questo episodio e alcune prove, quindi Ilaria si è sempre dimostrata e professata innocente, vedremo che cosa presenteranno, però il primo risultato che vorremmo ottenere è un processo equo e la concessione degli arresti domiciliari. Voi nel Partito Democratico siete molto spesi insieme alle altre opposizioni per il caso Salis in Ungheria, ci sono molti altri casi, uno di quelli che sta avvenendo alla luce è il caso di Filippo Mosca in Romania, spenderete anche lo stesso tempo, lo stesso peso politico per questo ragazzo che a quanto sembra sia vivendo più o meno le stesse condizioni sia in carcere che anche di accuse che sembrerebbero montate ad arte? Oltre a Ilaria Salis ci sono 2400 italiani detenuti all'estero e quindi è giusto che l'Italia e che i parlamentari di qualunque schieramento, a prescindere dal tipo di reato o da una condanna ricevuta o meno, perché in molti casi come quello di Salis siamo ancora in carcerazione preventiva, quindi non c'è stata nemmeno una condanna, però che l'Italia pretenda, faccia sì che i propri concittadini siano trattati in maniera umana mi sembra giusto. Il caso che lei solleva sulla Romania è uno dei casi su cui stiamo prestando attenzione, io ho grande attenzione per il tema del carcere dei detenuti anche qui in Italia e quindi sicuramente proveremo a seguire tutte le situazioni come questa.